I carabinieri stanno eseguendo sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone che avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella. Per due indagati, un quarantenne e un cinquantenne originari di Agrigento, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per altri due, un ventiquattenne originario di Agrigento e un quarantasettenne di Palermo è stato disposto l'obbligo di dimora ad Agrigento. Per altri due indagati, invece, un quarantenne di Favara e un altro originario della Germania è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Agrigento. E infine, per un sessantenne di Favara è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. L'indagine è stata avviata nel novembre del 2020 dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Agrigento, di aver subito minacce e violenze sessuali reiterate, come corrispettivo nella compravendita della sostanza stupefacente. Grazie alle intercettazioni telefoniche e alle riprese video è stato possibile riscontrare quello che gli inquirenti hanno definito una struttura piazza di spaccio.